No, non mi avete il dato, ecco, dov'è? Preso. No, ma bella. Il no scoop. Perché per organizzare sta roba ho parlato con tre social di vero. Wow! Oddio, che brutta solla che abbiamo fatto. Perché sempre ammettito? Wow, boy! Oddio! Però è che ho fatto un jump shot? Bella a tutti i guardiani e non i servimenti, sono i su destini, quinto episodio del prova a battermi, episodio speciale, tra virgolette, sono in compagnia di Luca, dei Folli Lights. Daga, raga. Omar. Ciao a tutti. Bella a tutti. E Mr. Duke. Mi viene da ridere perché, vabbè, lasciamo stare, la registrazione è prima andata a farsi fottere. Comunque, schermaglia, si arriva a 5.000 punti, 30 minuti, si giocherà. Stavolta abbiamo deciso insieme di giocare con le speciali. Ovviamente niente pesanti, sono bannate le sidearm, facciamo scegliere la mappa. Prima abbiamo giocato su Clinica, vediamo se vogliono attuare un cambiamento. Per me lo siamo provati su Anomalia. Anomalia, oddio. Va bene. Ci sta, Anomalia. Secondo tentativo, secondo tentativo ci becchiamo in partita. Allora, il loadout per tutti praticamente è palindromoli, primaria. Le sottoplasti sono speculari. No, forse adesso no, perché mi sembra che Mr. abbia cambiato personaggio. Io cambia, io c'ho Titano. Titano, oddio. Cazzo, si sfasi così? Prima, raga, era gran partita. Avrete visto sicuramente le azioni di Lugo incredibili. Anche a me è venuta qualche bella cosa, ma purtroppo... Ha deciso così il PC, non posso farci nulla. Oh, vecchio ti ho visto. Ah, il saltatore. Dov'è? È qua. Bravo. Hai pompa per caso? Sì, avevo il pompa. Ok. È anche una colorazione del personaggio abbastanza ambigua. Viola. No, è fighissimo. No, come puoi dire che questi mobili sono rosa? Rosa, scusa. Spero che... Sei alone. Bello. Perché non hai fatto il più alcuni ha fatto l'animazione? Ho saltato. Eh, ma l'animazione l'ha fatta. Il Titano è bagnato. Eh, ma il Titano fa proprio così. Bello. It's bugged as fuck, my boy. Dobbiamo stare qua. Che mappa. Uh, bello. Vado bene con... L'LDR, regà, penso che sei il mio miglior cecchino. Occhio. Ok. Prodi qua. Eh, sono da solo. A fare il cazzaro. Dai. No, Duke. Dio buono. Bastione. No, c'è dietro. Bravo. Bello. Ma sempre one shottissimo rimane. Io non ho più lo stricolo. Occhio. Vabbè. Così, è doppio headshot. Sì. Non voglio morire. Ecco. Wow. Ah. Che merda morire così. Belle le special lì. Devo prenderle. Ok. Ok, 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 ok. Una qua sopra. Sì, c'è Omar qui, però. Non riesco. No. Chiudi, 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 chiudi. Ah, ho sbagliato un headshot. What? Non ho capito molto, però bella lì. Vai, vai, vai. L'ho tornato. Madonna, sei one. Mister one. Sei re one. Re one. Eccola. Oddio. Vabbè. Madonna burina. Questo coso. Vabbè. Non ho fatto più un cazzo di punto. Dai, ripster. Dal 96. Madonna, veramente, anch'io mi sto ammocciando. Siamo partiti fortissimi, poi. Sì, stavamo tipo a zero gli altri. Ok. No, io ritorno nella mia tana qui dietro. Non so che sono. Bello. Io non so se la ticchetti è anneata o no. Non lo so se è anneata o no. Io ti raggiungo, cerchi di uscire da sto loop. Madonna mia, quando sei sotto non si capisce niente. Non è vero che mi hai preso. Io ero sopra. Oh, guti. Non mi hai preso. Allora, qua sono delle specie. Non vedo niente. Non vedo niente. Mure. Vai. Merda, vecchio. Oh, bello. Ah, speciali. Sui po'. Va giù. Va giù. Bello. Ok. Dove va? Niente. Bello, madonna che timo. Credo. Allora, mister, la vita si ricarica in un secondo. No, stavo scendo piano piano. Era già mirato. Lì. In un zupone. Sì. Oh, ha tirato una bella picco. La donna. Occhio che tra un po' i shucks parla. Eh, non smettere mai di combattere. Urla. D'accordo, non lo smetterò. Va bene. Duke, no. Sì, sì, ti sto appuntando. No. Non potevi negarmi. No, infatti. No, io lo dico. Quando sono in hardscope, lo dico. Ah, io. Come amici. Così ti senti meno in colpa, capito? Tre secondi. No. Non sono arrivato. Arriva. Ma non ci credo. Non riesco più a fare una kill di cecchino. Prima sono uscite le robe all'ucinare. Ah, raga. Di nuovo. Se volete partecipare, vedete commentare qui sotto con la hashtag 1v1. Eh, boh, sarà rotazione, chiamerò qualche altro ospituccio ogni 5. E poi ripo così, perché non riesco più a sparare. Nose. L'aveva preparata. Vedi. Just for me. Guarda sempre, fuccio sempre perché mi rompo le palle. Non ce la permette. Alla fine adesso, però su due, tre. No, ok. Corpo a corpo quello. La prima nuova che non ho credo di chi. Cosa è lì più in culo? Ok, lo è il tato. Non in due. No, lupo. Questa. Ok, allora ho frecciato l'altro. Non è vero. No, era frecciato per un secondo. Sì, ho frecciato però per un cazzo. No, lupo. Almeno, niente, neanche più cosa. Niente, neanche più cosa. Questa è quella roba. No, no, no. Io riprendo vita e poi ci voglio riprovare. Sì, nasticato. Un'andata. Niente stick, mi stichichi mojo. Shush. È un dettaglio. Una volta sai che c'è se si staccavano anche le laser? Però non nerf, è pesante lì. Ah, schivata. No, al corpo a corpo OP stavolta è stato abbastanza inutile. Occhio. Ah, non so dove vada. Bello. Madonna, ho calcolato proprio bene il tempo di passare in quella granata. In quella granata poi è bellissimo. Ah, giusto, giusto. In positivo. Madonna, lui ha fatto una partita da MVP proprio. No, vabbè, è tutta fortuna. Ci sta. Ci sta tutta fortuna. Vabbè. Stavolta la registrazione è andata a montare. Mi sta ancora registrando. Sì. Ok, raga, questo qua è stato il quinto episodio del ProvaBattermi. Ringrazio Luga. Di niente, è tre. Ringrazio Omar e Mr. Duke per aver partecipato. Di niente. È stato un piacere. Anche per me è lo stesso. Vi auguriamo buone vacanze se siete in vacanza. Veramente. Per chi ha la maturità, come me, buona maturità. Già, esatto. In bocca al lupo, raga. Madonna, veramente, che merda. Se il video è piaciuto, vi invito a lasciare un like, se vi è al canale, a commentare e a condividere questi video. Se vi faccio, vi saluto nel prossimo video. GG, dare wine. Berga. Grazie a tutti.